ciao bentornati sul canale bentornati sul canale e scusate tantissimo siamo in ritardo oggi per la puntata numero 4 numero 10 e c'erano le 6 di prima più le 4 no allora prima di tutto perché siamo andati a mangiare la poke è la prima volta che andavo io e la mamma e quindi poi ci siamo persi siano dimenticati allora cosa fai ma tu sempre ad aprire allora 35 euro di spesa vi danno in omaggio un personaggio di kung fu panda ogni sabato ci hanno messo personaggio sbagliato grave cosa grave roba questo quindi praticamente a questo punto vi spiego tutto grave errore annuncia dobbiamo annullare la recensione perché questo l'abbiamo già trovato ma come potete vedere questo sacchetto e dentro c'era questo quindi dovete aspettare almeno domani perché adesso usciremo andiamo a far cambiare questa bustina e caduto questa bustina e ricominciare comunque quindi io lo vedremo domani c'è si è piegata la testa ma che delusione è abbastanza ma io apro e dico vabbè vi ricordo che comunque 35 euro di spesa vi danno un personaggio di quelli che si possono che sono gratuiti gli altri sei personaggi che sono 12 3 4 4 5 e 6 ok questi tre in pratica li avete in omaggio con 35 euro di spesa gli altri dovete acquistare a parte e adesso non è che la delusione apro no sta convinta dico che bello il serpente era uno dei miei personaggi preferiti insieme a questo alla cavalletta che bello apriamo vediamo com'è apro e peccato che eravamo in ritardo sennò abbiamo già fatto il cambio e che adesso è tardi e non so neanche se riesco a mettere questo video oggi se non lo metto domani anche questo perché dobbiamo andare a cambiare questo personaggio quindi vi dicono iscrivvi al canale comunque c'è tutte le cose che poteva capitarci questa cioè non so se vi è mai capitato una cosa del genere mai successo vabbè sinceramente a noi non è la prima volta si spera anche l'ultima si decisamente vi ricordo iscrivetevi al canale andremo lì e controlliamo stavolta iscrivetevi al canale mettetevi a condividere commentare schiacciate la campanella per essere aggiornati su tutti i video anche su questa vicenda vi aggiorneremo e ci vediamo come al solito faremo degli shorts al massimo per aggiornarvi ok come sempre noi ci vediamo al prossimo video ciao